Allora, sto andando al workshop di Bending Gate, che è una Blue Dancer inglese. Adesso stiamo sul raccordo tra poco arriviamo e farò fare qualche ripresa da mia madre, sempre se lo riprende il soffitto o il pavimento, e vediamo cosa esce fuori. No 1 2 2 3 3 3 4 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 5 6 7 7 7 8 1 1 2 2 3 3 3 4 4 2 5 6 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 13 13 13 13 13 14 15 15 17 15 15 15 16 16 16 16 16 19 1717 grazie Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 e poi ti riposti e poi ti riposti e poi ti riposti stiamo in galleria ho finito il workshop sono un tipo distrutta è meno male che c'è la galleria e non la puoi montare ai video e spero che vi piaccia ciao